Come dire, idealmente siamo vicini al realizzare un sistema unico dove si può seguire il fiume Timavo per oltre due chilometri con due accessi dall'esterno, una alla grotta di Trebiciano e l'altra alla Luftlock. Un percorso però che è precluso a noi speleologi ma che potrebbe essere fatto solamente dai speleosub, come dire uno speleosub entra a Trebiciano, si immerge nelle acque, attraverso la caverna Mauci e arriva nella caverna Luftlock trovata qualche mese fa e magari esce fuori dalla Luftlock. Quanto manca? I dati, grazie agli ultimi rilievi che abbiamo fatto sia nella caverna Luftlock che grazie al supporto dei speleosub francesi, danno una distanza di soli 200 metri. C'è da dire che 200 metri a meno 300 metri di profondità, con le acque torbide, con tutte le difficoltà del caso, non sono una cosa molto facile. Però se guardiamo appunto rispetto ad anni fa, che di questo sistema che oggi ha quasi due chilometri non c'era praticamente nulla, 200 metri diventano un qualcosa di realizzabile. Solamente quest'anno gli speleosub francesi sono avanzati in queste nuove canalizzazioni per 300 metri, quindi sono arrivati a più di metà strada che separa la grotta di Trebiciano a quella della Luftlock. Quindi a quel punto si potrebbe passare, chiaramente speleosub parliamo, da una grotta dall'abisso di Trebiciano attraverso questo passaggio in acqua fino alla Luftlock. Perfetto. Questo è il sogno diciamo per voi? Questo è un sogno che in realtà fino a qualche anno fa era solo un esercizio di fantasia, era una cosa talmente lontana che neanche non si riusciva a sognare una cosa del genere. Invece unendo questi due tasselli, quindi le esplorazioni speleosubacquee e la scoperta della grotta Luftlock dopo 20 anni di lavoro in quella grotta, stanno rendendo un conto alla rovescia questo sogno. Ecco.